Il pareggio a noi ci sta un po' stretto perché oggi, nonostante ho metto tutto il campo, abbiamo fatto una grossa partita, abbiamo creato tante occasioni da gol, però penso che da parte del notaresco Scibe è stato il migliore in campo, ha fatto 3-4 parate importanti. Dispiace perché adesso è un periodo così, ormai sono sei partite che ci gira storto, perché alla fine la prestazione la fai, crei tante occasioni da gol, l'avversario ha la prima disattenzione perché loro ci hanno fatto gol su una palla in uscita, su una palla in uscita sono stati bravi con Pampano a fare gol, poi come ho detto tu siamo stati subito cattivi a reagire subito, a pareggiare con Bosco, però normale c'è mancata quella cattivera e quella lucidità sottoporta perché oggi abbiamo avuto quelle tre occasioni inite davanti al portiere, uno contro uno, è vero che Scibe ha fatto 2-3-4 belle parate, però anche noi secondo me potremmo essere un po' più cattivi. Il campionato è lunghissimo, il campionato è lunghissimo, noi io almeno da parte mia, da parte del Pineto, noi dobbiamo pensare a trovare la vittoria il prima possibile perché oramai sono sei partite che non vinciamo, è vero che sono cinque partite che vediamo da una striscia positiva, però ci manca tanta la vittoria perché da quello che si vede in campo la squadra la cerca per tutti i 90 minuti, è determinata, è cattiva, la squadra c'è, la prestazione viene fatta da mia squadra e dispiace perché adesso ultimamente sottoporta siamo poco cattivi e anche poco fortunati. Innanzitutto è un peccato oggi che questa partita di due grandi squadre sia giocato su questo campo perché poi non viene fuori i veri valori delle squadre, perché oggi è una partita di seconde palle, è una partita di duelli uno contro uno ed era difficile imporsi una con l'altra. Noi in questo momento era la settima partita in pochissimi giorni, avendo solamente 13-14 ragazzi, sono stati incomiabili oggi perché su questo campo si spende ancora di più, sono ancora più orgoglioso di loro oggi perché hanno fatto una grande gara e adesso si goderanno una giornata libera, piena, perché hanno bisogno di recuperare e poi da martedì iniziamo testa bassa. Vittoria Esposito è arrivato da tre giorni, l'ultimo mese si è allenato poco, oggi è entrato su un campo che non sono consone le sue caratteristiche, però quando prende la palla vediamo subito che è un giocatore importantissimo, quindi andiamo avanti, adesso bisogna lavorare, pensare alla prossima partita e cercare di vincere. Grazie.